Ciao, sono Igor Vitale, ti do il benvenuto a questo modulo di psicologia e neuroscienze del progetto Erasmus Food Ethics. Il progetto Erasmus Food Ethics è composto dalla cooperazione tra Italia, Bulgaria e Lituania e ha la finalità di formare i studenti degli istituti professionali all'etica del cibo. Si tratta quindi di un tema, direi ambizioso, affrontare il tema dell'etica è un tema complesso, la nostra sfida sarà quello di semplificarne la spiegazione senza banalizzarne gli argomenti per dare dei argomenti e delle tecniche, delle strategie usabili per gli studenti e per la loro futura professione. L'etica è quella parte della filosofia che si è occupata e si occupa nel tempo di distinguere comportamenti giusti e comportamenti sbagliati. Se parliamo di comportamenti giusti o sbagliati stiamo parlando quindi di un argomento sterminato e in fondo chi siamo noi per definire cos'è giusto e che cos'è sbagliato? Capite dunque che l'etica va dunque applicata all'interno di un settore specifico o rispetto a quesiti, dilemmi specifici riguardanti il cibo. Ora, che cos'è il cibo? Il cibo è un argomento che può essere affrontato da moltissime prospettive. Il cuoco, il futuro chef, il ristoratore, il manager di qualsiasi servizio di somministrazione di cibo e bevande dovrebbe conoscerne un po' tutte le angolature per potersi avvicinare non al comportamento più giusto possibile perché è difficile definire ma avvicinarsi a una soluzione efficace. Dico me andiamo a inquadrare il cibo. Possiamo vederlo con una storia, una storia della tradizione della mia provincia che ci spiega quanto il concetto di cibo sia ampio. Io sono Igor Vitale, sono uno psicologo del lavoro, vengo da Foggia e proprio all'interno di questa provincia che dalla fine dell'ottocento c'è una storia che ha cambiato un po' l'approccio medico al cibo. Si tratta della storia di Roseto Valfortore. Roseto Valfortore è un piccolo borgo tuttora esistente nella mia provincia, quindi la provincia di Foggia, tra Foggia e la Campania e come in moltissimi paesi del meridione, del sud Italia, gli abitanti dei villaggi, dei borghi e di moltissime altre parti del sud Italia sono man mano emigrate verso gli Stati Uniti per trovare fortuna e condizioni di vita migliori. Come un po' tutti anche Roseto Valfortore, quindi la comunità di Roseto Valfortore partecipa alla migrazione, raggiunge la zona di New York e un po' alla volta va a ricostituire una comunità parallela negli Stati Uniti, proprio per appunto una questione di comodità, di coesione. Questa comunità ad oggi è ancora esistente, si chiama Roseto Pennsylvania e vicino a New York e diventa famosa per questo motivo. Nei decenni che passano, e quindi questa comunità si popola con i successori delle prime famiglie che appunto erano emigrate lì, salta agli occhi di un medico, il professor Stuart Valf della Università dell'Oklahoma. Ecco, questo medico era responsabile di analizzare le statistiche di mortalità nelle varie parti degli Stati Uniti ed aveva riscontrato che, in sostanza, la mortalità cardiovascolare a Roseto Pennsylvania era nulla sotto i 65 anni ed era dimezzata sopra i 65 anni. Questo appariva come un fatto inspiegabile perché dovete immaginare questa comunità in un territorio così ampio come quello degli Stati Uniti dove appunto si tratta di un punto in una grande mappa. Per l'identificazione dei fattori che possono essere appunto protettivi della salute di una persona, Stuart Valf si era interessato perché era così inspiegabile e così positivo il fatto che la mortalità fosse pressoché nulla sotto i 65 anni e dimezzata sopra i 65 anni. E quindi è andato a verificare statisticamente un po' tutte le possibili ipotesi che potevano aver condotto i rossetani statunitensi a avere una mortalità pressoché nulla per motivi cardiovascolari o comunque condizioni di salute molto migliori. Ovviamente, prima ipotesi che viene in mente al professor Stuart Valf che potenzialmente i rossetani avevano importato la dieta mediterranea, quindi abitudini alimentari più sane, basate su una grande quantità di frutta, verdura, quindi condizioni che sono protettive per la salute del cuore. Però nessuno sapeva questo, quindi Stuart Valf è andato a verificarlo statisticamente, è andato a confrontare le abitudini alimentari dei rossetani con quelle degli Stati Uniti in generale. La cosa curiosa è che sebbene fosse quasi certo di questa cosa, di fatto non venne trovata alcuna differenza significativa. I rossetani ormai erano lì da 60-70 anni, erano partiti a fine 800 e questi dati sono stati poi raccolti negli anni 50 del 900, quindi è passato così tanto tempo, generazioni, che di fatto i rossetani ho assunto le abitudini alimentari degli statunitensi. E qui c'è un colpo di scena, nel senso che non era stato il cibo aver prodotto un fattore protettivo. Seconda ipotesi dunque Stuart Valf va a verificare se ci fosse una differenza ad esempio a condizioni di lavoro. Noi parliamo di un'epoca del lavoro in cui si lavorava in miniera con condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro anche molto relative e molto diverse da oggi, si trattava del passato. E quindi la prima idea che venne in mente a Stuart Valf è che ovviamente i rossetani venivano dalla provincia di Foggia, quindi venivano a un contesto in cui i lavori, le professioni erano le professioni agricole o della pastorizia. E quindi è ipotizzato, probabilmente i rossetani fanno gli agricoltori, fanno i pastori, quindi sono lavori all'aria aperta dove c'è dell'attività fisica, dove c'è dell'aria sana. Beh anche in questo caso, con tutto quel tempo che era passato, i rossetani avevano assunto comportamenti e abitudini completamente statunitensi e probabilmente anche di fatto le condizioni del lavoro non consentivano di fare altro. I rossetani quindi di fatto avevano un lavoro molto simile a quello degli statunitensi del tempo, cioè lavoravano in miniera, in condizioni appunto di respirazione assolutamente non salubri e di sicurezza relativa. La terza unica altra opzione che poteva essere la spiegazione medica a questa grande protezione nell'ambito della salute dei rossetani poteva essere solo un minor livello di alcol, perché ovviamente l'alcol fa male. Bene, i rossetani non bevevano meno degli statunitensi. Qual è stato il colpo di scena? Dal punto di vista metodologico, Stuart Wolff, assieme alla comunità di Roseto Valfortore, fanno un cambio di paradigma. E cioè Stuart Wolff si chiede, ma se non è stato il cibo, se non è stato l'alcol, se non è stata la salute dell'aria o le condizioni fisiche, beh allora questa immunità deve essere necessariamente legata a un fattore sociale, culturale o psicologico. Quindi il cambio di prospettiva, la genialità del professor Stuart Wolff è stata quella di andare a analizzare le comunità dei rossetani e scoprire che i rossetani erano diversi dagli americani da un punto di vista culturale, perché avevano una famiglia molto più coesa, una convivialità a tavola, quindi il luogo del mangiare non era solamente nutrirsi, ma era riunirsi. E c'era un'assistenza, diciamo, un supporto da parte dei papà nelle famiglie che era maggiore rispetto a quello degli Stati Uniti. E questo aveva di fatto reso i rossetani più felici, più coesi, meno esposti allo stress, dunque meno esposti a rischi di livello immunitario e li aveva di fatto protetti in quel periodo. Ora, non voglio dire che uno può bere e mangiare quello che vuole prestare bene e risolve tutto con la convivialità a tavola. Voglio usare questo esempio per mostrarti che il cibo non è solamente nutrirsi, mangiare. Questo ristoratore o il futuro ristoratore deve saperlo. Se non lo sa, sta applicando una parte del proprio lavoro, insomma. E bisogna poi anche valutare quanto possa entrare nel merito dei fattori nutrizionali o se invece celebba, appunto, anche per questioni etiche affiancarsi, professionisti che possano aiutare anche la parte medico-nutrizionale. Quindi questo per mostrare che il cibo è cultura, il cibo è identità, il cibo è anche nutrizione. E quindi quando noi andiamo... il cibo è anche economia. Quindi quando noi andiamo a valutare l'etica del cibo, dobbiamo vedere il fenomeno a 360 gradi. E cioè, dove voglio arrivare? Nel momento in cui tu sei un ristoratore, uno chef, un futuro ristoratore e stai progettando il tuo menu, devi prendere in considerazione tutta una serie di parametri. Questi parametri sono parametri dell'etica, devono essere scomposti in ognuno dei suoi elementi, i propri elementi. Per esempio, devi andare a valutare i fattori economici, affinché la bilancia economica sia, sì, in grado di sostenerti in maniera efficace a livello economico, ma che sia bilanciata anche per l'utente. Perché è vero, ad esempio un cibo più sano, un cibo biologico, sicuramente più etico di uno non biologico? Sì, dal punto di vista della salute, assolutamente. Però è anche un cibo che costa molto di più e quindi dov'è il peso della bilancia? Far mangiare tutti o far mangiare meno persone bene? Capisci quindi l'economia e quindi la qualità delle risorse è un valore imprescindibile nell'etica, ma che si scontra col fatto che il cibo di qualità potrebbe costare di più. Quindi dov'è l'etica? Far pagare tanto, ma con un cibo di perfetto dal punto di vista della salute o mediare in questo senso? Diventa un dilemma, diventa due elementi opposti della stessa bilancia. Qual è il cibo etico? Un cibo che magari fa benissimo, assolutamente salutare, assolutamente ottimo a profilo medico, ma in sapore, oppure dovremmo prenderci cura anche del piacere del cibo? Perché il piacere del cibo, abbiamo visto prima, la convivialità tavola, il contesto, gioca un ruolo. Dobbiamo valutare solamente i fattori nutrizionali? No, dobbiamo valutare tutto, quindi fattori culturali, identitari del cibo, legati alla salute, alle proprietà nutritive, proprietà nutritive che poi hanno un valore diverso per le persone che andiamo a servire, possono avere costituzioni, caratteristiche differenti, quindi capisci che dietro l'etica ci sono tante altre cose. E quindi il buon ristoratore deve saper bilanciare tutti questi elementi, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica, quindi un giusto prezzo per tutti, quindi per l'agricoltore che produce, per lo chef che prepara e per il cliente finale, spesso non è assolutamente facile mediare, perché il valore economico è un valore appunto che può essere più alto, più basso, non possiamo inventarci molto, che abbia una buona parte gustativa, di sapore, che possa donare un'esperienza memorabile, perché il cibo è anche piacere, ma che al tempo stesso faccia bene la salute o comunque non esponga a rischi. Tutto ciò va bilanciato poi, immagina, all'interno di menù, proposte, stagionalità. Capite che lo chef è all'interno di un ecosistema di questioni etiche e deve trovare la miglior mediazione per fornire un servizio di qualità, ma che sia anche salutare. Dietro questo c'è il progetto sull'etica del cibo che proponiamo in questo caso. E quindi viene da pensare come possiamo, diciamo, andare a enucleare il peso dell'etica sulle scelte di consumo. Le scelte di consumo sono state rilevate da un sondaggio recente, si chiama Eurobarometro, uno sondaggio ufficiale della Commissione europea, in particolare è stato portato avanti dalla European Food Safety Authority, quindi Autorità sulla Sicurezza Alimentare, che è andato un po' a chiedere in tutta Europa, innanzitutto il ruolo dei fattori di sicurezza alimentare, come vengono un po' percepiti dai cittadini europei, ma anche in base a che cosa i cittadini europei scelgono. E c'è una cattiva notizia, la prima è che i cittadini europei dal 2019 al 2022 hanno ridotto le proprie conoscenze sulla sicurezza alimentare, conoscono meno i fattori generali di sicurezza alimentare, i pesticidi, ormoni, coloranti, conservanti, ci sono state domande su tutti i fattori più importanti della sicurezza alimentare, è stato rilevato che i cittadini europei hanno diminuito la propria consapevolezza. Quindi, nonostante gli sforzi, nonostante l'impegno, di fatto questo non ha portato una maggiore conoscenza ai cittadini europei. Consideriamo che oggi in Europa ci sono tantissime ottime pratiche per rendere i cittadini più consapevoli. C'è lo European Green Deal, c'è la strategia From Farm to Fork, c'è la New Consumer Agenda, ci sono strategie per la prevenzione dell'obesità. Eppure, se andiamo a vedere i dati, beh, questi dati mostrano che i cittadini europei conoscono un po' meno di prima gli elementi di sicurezza alimentare, quindi capisci che poi il cuoco si trova nel dilemma etico di saper comunicare la sicurezza alimentare, di saper informare sul perché si sceglie un determinato ingrediente. Se il cameriere o lo chef non lo sa o non lo sa spiegare, si pone un dilemma etico di informazione al cittadino. Informazione che rientra nel contesto del servizio al tavolo a un ristorante, ma pur sempre un'informazione. In poche parole, in un servizio, si può essere molto informativi. Quindi, sicurezza alimentare, conoscenza di sicurezza alimentare è diminuita. Per fortuna la tecnica, la tecnologia sta migliorando, ma la conoscenza di cittadini è minore, quindi ci si chiede il consumatore in base a che cosa decide. E questo eurobarometro l'ha rilevato, l'ha studiato. E cioè ha chiesto ai cittadini europei, quindi in tutti gli stati, esistono quindi statistiche separate per stato, in base a che cosa decidono di comprare. E tra questi fattori c'era la valutazione di determinate variabili, anche dell'etica, del sistema di credenze, dei valori. Insomma, che cosa è emerso? È emerso che il cittadino europeo, in media, il primo fattore che seleziona e che considera per la valutazione di ciò che compra e quindi di ciò che mangia, di che cosa si nutre, è il costo. Il costo è la prima variabile. Dobbiamo ricordarci nel 2022 c'è stata anche una grande inflazione, dei beni di prima necessità, a seguito degli effetti anche economici della guerra in Ucraina. E questo ha portato i cittadini a dover scegliere più sulla bassa del costo. Vedete, beh il costo è una necessità e quindi poi i fattori successivi saranno altri fattori di necessità. Invece no, il secondo fattore è il sapore. Il costo e il sapore sono i fattori primari, sono le modalità in cui le persone decidono. Se ci pensi, perché costo e il sapore sono i più immediati? Un po' perché la nostra capacità di percepire i fattori immediati, cioè il costo lo paghi subito, il sapore lo mangi subito, quindi immediatamente tu hai una percezione dell'effetto di queste cose, stai perdendo dei soldi, stai sperimentando piacere o meno piacere nel mangiare, quindi questi sono i tuoi fattori. Anche proprio per la neurofisiologia, per la struttura del nostro cervello, i fattori visivi, i sensoriali sono più immediati dell'etica o delle credenze, semplicemente perché etiche e credenze sono elementi complessi, sono elementi che necessitano un'elaborazione mentale particolarmente articolata, possiamo parlarne per ore di etica e credenza sul cibo, lo stiamo già facendo. Quindi solo dopo vengono altri fattori importanti come la sicurezza alimentare, le proprietà nutritive, le caratteristiche di indicazione geografica, quindi da dove viene quel cibo, solo dopo vengono. Pensa che la sicurezza alimentare è al quinto posto ed è paradossale pensare che appunto sia più importante il sapore della sicurezza. Eppure questi sono i sondaggi. La cosa un po' deludente è che sebbene tutte queste variabili appunto siano state considerate, l'eurobarometro mostra che l'etica e la sicurezza ambientale, quindi la preservazione dell'ambiente, quanto siano sostenibili determinati cibi, sono l'ultima variabile considerata in me dal cittadino europeo. Possiamo chiederci, questo la statistica non lo dice, fino a per ore quale sia il motivo di questo ordine particolare. L'idea che io mi sono fatto è che ovviamente costo e sapore noi li percepiamo immediatamente. Se già parliamo di sicurezza alimentare abbiamo visto che il cittadino spesso non sa discriminare cosa è sicuro che cosa non è sicuro. L'indicazione geografica è importantissima, quanto può essere più importante la sicurezza alimentare. Se invece noi ci spostiamo sul finale della scala, cioè l'etica del cibo e la sicurezza ambientale, quindi la sostenibilità ambientale di un ingrediente, beh, queste cose necessitano una conoscenza davvero tecnica da parte del cittadino che spesso manca. Quindi per favorire il cibo etico noi dobbiamo considerare l'etica del cibo come una delle gambe del tavolo, una delle variabili da considerare e poi deve reggersi assieme all'altro. Quindi cosa è il cibo etico? È un cibo etico sano, sostenibile, anche con un buon sapore, anche con un giusto costo, anche con una giusta retribuzione del produttore, dell'agricoltore. Questo è un cibo etico. Il consumatore da solo può avere la specializzazione necessaria per poter considerare tutti questi aspetti? Probabilmente no, e forse non gliene anche del tutto richiesto che raggiunga un livello così specialistico. Però al tempo stesso deve poter essere messo in condizione di scegliere del cibo sano ed etico. Il ristoratore può giocare un ruolo in questo, il ristoratore è lì. Il ristoratore quando prepara un menù, quando offre un piatto, quando spiega un piatto, racconta un piatto, può inserire elementi informativi che portino il cliente non solo a dire, ah beh, ho mangiato benissimo in questo ristorante, mi sono trovato bene, il cibo era saporito, ma che possa tornare a casa con degli apprendimenti di giustizia del cibo, di che cosa c'è dietro il cibo, di come i ristoratori possono allearsi con gli agricoltori per portarsi a casa per una scelta più consapevole. E quindi magari favorire anche un certo influenzamento dei comportamenti e dei atteggiamenti in una via etica e sostenibile e insegnare al cliente che si può mangiare sano e sostenibile a una quotazione giusta, perché ricordiamoci che tanto cibo viene sprecato, ricordiamoci che tanto cibo è dannoso, potrebbe essere mangiato o bevuto in quantità minori e questo lo riesce a fare come? Lo riesce a fare se hai una struttura del menù non solo etica, sana e sostenibile, ma anche molto buona. Abbiamo visto che uno dei primi fattori, costo e sapore, per convincere il consumatore a avere un'alimentazione sana e sostenibile bisogna saper cucinare bene. È difficile utilizzare solamente argomenti moralistici legati alle scelte alimentari. Dobbiamo poter motivare i consumatori nel mostrare che una cucina per esempio vegetariana o una cucina sana può essere anche molto saporita e benefica. Puoi alzarti al tavolo che sei fresco, felice e mangiato anche davvero bene. E quindi queste cose vanno di pari passo, cioè non ha senso separarle, non ha senso pensare che lo chef debba essere da un lato a dire beh io faccio un menù che deve vendere e poi si fanno delle campagne di sensibilizzazione a parte spiegando che cos'è l'etica del cibo, che cos'è la sostenibilità alimentare e così via. Dobbiamo farle assieme, lo chef deve essere bravo a farle entrambe, deve essere bravo a riconoscere il proprio ruolo e affiancarsi a professionisti di settori differenti per poter comprendere tutta l'etica del cibo. Perché quando convince un consumatore della giustizia di una determinata scelta, beh allora lì sarà poi difficile smarcarlo. A volte è difficile far cambiare idea alle persone, ma al tempo stesso è difficile poi far smarcare quando tu è convinto quel cliente della scelta etica, cioè difficile far smarcare il cliente della scelta etica. Per farlo devi utilizzare tutti i mezzi. Quindi dove poter inserire elementi di etica, dove poter inserire degli elementi che consentano al cliente di scegliere in maniera più consapevole. Puoi farlo in mille aree differenti. Una sicuramente è tutta l'area di comunicazione che è all'interno del tuo ristorante. Quindi che cosa scrivi all'interno del menù, per esempio? Il menù è un menù di testo, quindi in cui principalmente tu andrai a comunicare con delle parole, può presentare determinati elementi che incoraggino i comportamenti alimentari, sane e sostenibili. Quindi noi sappiamo che per esempio la cucina vegetariana, la cucina vegana, se ben strutturata, ha un tasso di sostenibilità maggiore di una cucina prevalentemente a base animale. La cucina vegetariana quindi può essere incoraggiata, ci si può chiedere quanto debba essere incoraggiata, ci si può chiedere, si può avere un dilemma etico nel dire beh dovremmo favorire il comportamento alimentare vegetale, vegetariano, però come e quanto? Perché poi il dilemma etico è beh ma poi si può tra virgolette indirizzare troppo, si può forzare troppo la mano? Beh c'è sempre una via di mezzo. Innanzitutto inserire elementi e una buona porzione di elementi di base vegetale. Ecco questo aumenta la sostenibilità del tuo menù, se tu segui i principi ovviamente di sostenibilità, principi di stagionalità dell'ingrediente, puoi farlo in tanti modi. Uno potresti per esempio dedicare all'interno del menù una sezione solamente legata al cibo vegetariano. Uno diventi più inclusivo, consente a chi segue una dieta vegetariana o addirittura vegana di avere una sufficiente quantità di scelte perché poi dare un'opzione al vegetariano al vegano quanto è etico, è solo conveniente per il ristoratore così è un'opzione ma probabilmente non rende piacevole il pranzo a una persona che mangia solamente vegano o vegetariano. E questa è una via. Dedicare una pagina significa essere molto chiare all'interno della propria strategia di comunicazione e la persona che mangia solamente vegano o vegetariano può scegliere. Questo è già un inizio e può scegliere in maniera chiara, non deve andare a cercare nel menù e porsi mille domande sui potenziali ingredienti. E il cameriere deve sapere cos'è vegano e vegetariano. Personalmente a noi è capitato questa esperienza che ci proponessero pasta e vongole come vegetariano o scamorza come vegano, voglio dire, non lo è. Quindi se il cameriere non sa cosa sta servendo non solo non offre un servizio al cliente vegano o vegetariano ma non fa una gran figura e non la fa fare neanche lo chef oggettivamente. Questa è la prima opzione. Oppure per esempio potresti decidere di utilizzare delle icone all'interno del menù. L'icone con logo vegan o vegetariano o comunque con qualsiasi simbolo che possa identificare cibi con una maggiore sostenibilità o con magari una certificazione biologica o certificazione di altro tipo. Belle le parole, belle le lunghe spiegazioni ma l'icona immediata. Aiuta il cliente a decidere. Permette al cliente di decidere e permette anche magari al cliente non vegano, non vegetariano di quella volta selezionare un pasto più leggero. Quella volta selezionare un'opzione che può essere sana, può essere più sostenibile. Questa è una delle cose che puoi fare per favorire il comportamento alimentare vegano o vegetariano. Un'altra cosa che puoi fare per esempio è decidere di utilizzare strategicamente all'interno del tuo menù un elemento standard di base vegano o vegetariano ma insomma puoi applicare poi il principio a qualsiasi tipo di cibo sostenibile. Ecco non mi soffermo solo sul vegano o vegetariano. Per esempio molti chef danno un omaggio all'inizio, danno un omaggio alla fine, quindi può essere prima dell'antipasto, un piccolo piatto di benvenuto o può essere prima del dolce. Insomma puoi decidere che quello lì sia base vegano o vegetariana. Non solo è un impatto sui costi minore perché la base vegetale chiaramente può avere i costi minori rispetto ad altri tipi di risorse ma di base stai già fornendo come uno standard del comodo maggio una parte vegana o vegetariana. Ancora puoi giocare sulla proporzione dei ingredienti, cioè tu puoi fare un main course, quindi puoi fare un piatto principale di carne o di pesce, beh però se tu metti solo pesce e due foglie una componente vegetale è poca. Se invece riesci a bilanciare meglio quindi a proporzionare la parte di carne o di pesce rispetto alla parte vegana o vegetariana tu stai aumentando la sostenibilità del tuo menù senza necessariamente stravolgerlo, senza necessariamente formulare un menù interamente vegetariano o vegano perché poi diventerebbe poi una cucina settoriale. Un'altra strategia che puoi utilizzare per aumentare la sostenibilità ambientale dei tuoi menù è per esempio la strategia del menù degustazione. Il menù degustazione ti aiuta un sacco perché il cliente formula una scelta, sceglie il tuo ristorante perché magari ti stima o perché magari lo conosceva un buon ristorante, quindi tu utilizzi una certa sequenza di piatti. Questa sequenza è predeterminata, quindi è all inclusive, il cliente sceglie una sequenza. Potresti per esempio scegliere di dare un paio di menù degustazione. Già il menù degustazione rispetto al menù alla cart aumenta di parecchio la sostenibilità ambientale delle tue scelte perché come minimo riduce lo spreco alimentare perché tu hai quei piatti quindi sai che le opzioni sono limitate e è improbabile che ci siano rimanenze. Poi puoi applicare la tecnica per ridurre gli sprechi alimentari però in linea di massima, insomma. In linea di massima con il menù degustazione aiuta molto. Puoi decidere anche che uno dei due sia il menù degustazione a base vegetale. Quindi immagino l'impatto di un ristorante di alta classe che riesce a offrire un menù vegetariano di alta qualità. Questo ti aiuta a aumentare la sostenibilità ambientale dei tuoi piatti e quindi a essere, a proporre, a fare delle proposte più sane. Tutto ciò può essere replicato veramente a qualsiasi livello. Estendo, puoi per esempio aumentare la proporzione dei contorni a base vegetale o vegetariana. Puoi per esempio scegliere di fare delle bevande quindi anziché fare un pairing, un abbinamento col vino, che quindi comprende una componente alcolica, quindi una componente comunque dannosa per la salute, puoi decidere di fare degli abbinamenti con bevande non alcoliche, magari a base vegetale. Vedi quanti modi hai di aumentare la sostenibilità ambientale del tuo menù, oltre ai più scontati, la stagionalità, i prodotti locali, la tradizione, che possono essere integrate nel modo in cui tu disegni il menù. E questo ti permette di favorire l'etica delle scelte alimentari. Ovviamente poi da qui discende tutto un lavoro di analisi del comportamento dei clienti, perché qualsiasi scelta sul menù non deve essere puramente appunto mossa da degli ideali, non deve essere solo questo, perché i ristoranti sono imprese, i ristoranti devono fatturare per poter esistere, ma al tempo stesso tutto ciò si basa su dei test. Faccio un menù, lo testo, vedo cosa dicono i clienti, cosa scelgono i clienti, cosa rimane di più, cosa viene scelto di più, e man mano vado a ottimizzare le parole che inserisco all'interno dei menù, quanto questi possano guidare il cliente. Un'altra cosa che ti consiglio è che per esempio può aiutarti a creare connessione con le aziende alimentari, quindi con i tuoi fornitori. Per esempio potresti inserire all'interno della tua proposta i nomi delle imprese, locali ovviamente, che hanno contribuito con i loro ingredienti, cioè tu puoi avere un uovo molto speciale, perché magari è preparato con tutti i criteri di sostenibilità ambientali, con tutti i metodi di artigianalità, con il massimo della qualità. Beh, sponsorizzare quell'uovo e citare il nome dell'azienda non solo ti permette di dire guarda che io non ho selezionato un uovo a caso, ci ho pensato, ma due, ti permette di creare delle alleanze molto interessanti con quell'azienda. Il cliente, il turista del luogo rurale che conosce appunto le imprese del territorio, potrebbe per esempio poi decidere di visitarle o decidere di andare a rifornirsi di quelle risorse sostenibili. Anche tu stesso potresti avere un'alleanza con l'agricoltore nel fornire quel tipo di prodotti e quindi rivenderlo, aumentando da un punto di vista di alleanze, l'alleanza con l'agricoltore che appunto si fidelizza a te, ti propone le migliori risorse, ma anche proporlo poi al cliente, dire ok, il cliente ha avuto una bellissima esperienza, prova questa materia prima, questo prodotto straordinario nella cucina di casa tua. Il cliente deve uscire arricchito dal punto di vista dell'informazione e dell'educazione e questo si può fare con un servizio informativo ed educativo di alto livello, quindi formando i tuoi camerieri e anche tu stesso come chef nel saper comunicare queste cose. Un altro elemento di cui vorrei parlarti è nella scrittura dei menu e quindi nel modo in cui tu proponi la tua cucina, quindi attenzione, io ora ti parlo di menu ma di fatto quando il cameriere parla, quando lo chef parla, quando scrivi qualcosa sul sito, quando fai un post di social media tu utilizzi le parole, è la trasparenza e cioè qui dobbiamo farci una bella domanda sulla trasparenza che determinate parole possono avere e il bilanciamento con la creatività. Quindi una cosa importantissima per rendere il tuo menu e la tua comunicazione etica è spiegare esattamente cosa c'è dentro il piatto. Quindi forse ti sarà capitato alcune volte di finire alcuni ristoranti in cui si utilizza un linguaggio assolutamente sofisticato e creativo per presentare i propri piatti e questo ci sta perché lo chef vuole rendere il proprio piatto distintivo, unico e magari non si capisce cosa c'è dentro. Allora qual è il bilanciamento? Cosa è più importante? Utilizzare un nome effetto o dire al cliente cosa c'è dentro? Per questo motivo che moltissimi ristoranti di altissima classe oggi sempre meno scelgono l'opzione del titolo sensazionale o della parola ricercata, spesso utilizzano addirittura la sola lista degli ingredienti perché il valore della trasparenza è sicuramente più alto del titolo ed effetto che serve ad influenzare. Quindi quello che io consiglio di fare è quantomeno di utilizzarli entrambi e di utilizzare la massima trasparenza nella spiegazione degli ingredienti deve essere assoluta. La creatività puoi applicarla a livello visivo, puoi applicarla a livello creativo di presentazione del piatto, nella scelta dei colori, nella tecnica di trasformazione degli ingredienti, ma di fatto il titolo incomprensibile crea un gap di curiosità. Il cliente non si formula un'idea chiara su quello che andrà a mangiare e questo per alcuni clienti è un problema. Io per esempio mangio tutto. Mi piace tutto, quindi scelgo una base di etica, di dieta, di salute, però di base mangio tutto, quindi difficilmente sono deluso dal tipo di ingrediente in quanto tale, posso essere deluso dalla qualità, ma mangio tutto, quindi non ho restrizioni in questo senso. Altri clienti no, non mangiano alcune cose, non apprezzano determinati sapori e quindi creare un gap con un titolo incomprensibile e un cibo può creare quello che in psicologia delle decisioni si chiama regret, cioè rimorso. E questo è estremamente correlato alla soddisfazione che decresce del cliente, quindi una persona si immagina chissà cosa e poi viene deluso. Ricordo una volta ero a tavola con un amico e appunto ci si aspettava questo piatto di tagliata di ananas, quindi sembrava chissà cosa ed era dei pezzi di ananas. E ricordo appunto che il collega rimase abbastanza male perché si aspettava forse qualcosa di più. Però vedi quanto, questa è una banalità ecco, però, un titolo sensazionale, un titolo creativo possa poi portare a una certa delusione da parte del cliente e quindi a una decrescita della propria soddisfazione. Il titolo e le parole devono essere trasparenti, non dico la lista completa, quella lì con gli allergeni ha una finalità di legge, deve essere presente, non devi mettere per forza tutto nel titolo, però devi sicuramente far arrivare al cliente prima quello che ci si può aspettare. Puoi giocare sull'effetto sorpresa in un modo differente e comunque la scarsa trasparenza. È sicuramente uno dei elementi dell'etica perché appunto abbiamo visto il cliente già di base potrebbe avere delle difficoltà di comprensione del contenuto alimentare, lo dicono i sondaggi, lo dicono le ultime statistiche. Il tuo ruolo è quello di far uscire il cliente nella tua esperienza di cucina sicuramente felice, ma anche più informato, più educato all'etica della cucina. Io ti ringrazio per il tuo ascolto e ti lascio ai casi di studio. Abbiamo intervistato esperti della cucina e dell'etica, grandi tecnici della cucina e della produzione alimentare. Ti mostreranno poi in pratica, vedendo una serie di interviste che ho condotto, delle strategie che tu puoi applicare nel tuo lavoro di tutti i giorni, nel tuo futuro lavoro. Ti ringrazio per l'ascolto. Grazie.